È sempre difficile arrivare dopo una relazione affascinante, divertente. Io non canterò, non vi preoccupate, non ho canzoni. Grazie a Patrizio per aver iniziato così col botto questa bellissima giornata di incontro su una domanda meravigliosa. Io sono qui per parlare un po' di ufologia e un po' di vita e visite extraterrestri. Ovviamente lo faccio da un punto di vista di giornalità scientifico che si occupa di divulgazione, che ha avuto delle occasioni molto magiche nella propria vita di incontrare un gruppo di testimoni particolari del fenomeno ufologico. E quindi parleremo di persone straordinarie che hanno vissuto delle esperienze ufologiche. Sono gli astronauti, sono alcuni dei personaggi che molti pensano siano i più affidabili in assoluto da questo punto di vista. Cominciamo con un'immagine astronomica. Questa è una fotografia all'infrarosso. Quella nebbia che vedete, quella polvere che vedete, non è polvere, sono stelle. Questa è una piccola porzione della nostra Via Latte, la nostra galassia. In questa immagine ci sono circa un milione di stelle. Questa invece è un'immagine su una scala un pochino più grande, acquisita dal telescopio spaziale James Webb nel 2022. Anche questa è un'immagine all'infrarosso. Queste non sono più stelle, sono galassie. Ciascuna di queste ha miliardi, centinaia di miliardi di stelle. Dal punto di vista scientifico, l'idea che ci sia vita extraterrestre è considerata plausibile. Non abbiamo prove, non abbiamo indicazioni certe, ma non sembra esserci nessun ostacolo fisico, chimico, biologico all'idea che la vita si possa essere sviluppata anche altrove nell'universo. Ma vita non significa necessariamente tecnologia, ma soprattutto non significa necessariamente visita extraterrestre. Quindi se da un lato la comunità scientifica è molto aperta all'idea della vita, c'è invece molto più scetticismo a proposito della possibilità di visite di questa vita. Però abbiamo un gruppo di persone alle quali vorrei dedicare questi minuti a mia disposizione perché sono persone che dal punto di vista della comunicazione mediatica hanno un ruolo particolare, sono appunto gli astronauti. Cominciamo con questo signore, Jim McDevitt. Jim McDevitt fa una missione straordinaria nel 1965, vola con la Gemini 4, il suo collega Ed White è il primo americano a fare una passeggiata spaziale, è stato preceduto da Alex e Leonov sovietico. Durante il secondo giorno della sua missione stanno sorvolando le Hawaii, mentre il suo collega Ed White sta riposando, sta dormendo, McDevitt vede un oggetto misterioso. È raccontato così, sembra una storia assolutamente affascinante, anzi diciamo conclusiva, definitiva. Questa è la foto che ancora oggi viene presentata come la documentazione dell'oggetto metallico, lui lo descrive simile a una lattina di birra, che vede fuori dall'abitacolo. Lo chiama oggetto non identificato, dice che è un oggettino che sembra come una matita o qualcos'altro che gli sporge come se fosse un'antenna, fa delle fotografie ma vengono male. Infatti questa non è la fotografia che lui ha scattato. La fotografia, sono andato a riprendermi tutto l'archivio fotografico di quella missione, non c'è nessuna immagine decente di quell'oggetto, questa però è la fotografia che giornalisticamente viene presentata. E infatti non c'entra nulla. È un difetto della pellicola, un difetto del trasporto della pellicola. Andando a vedere lo stesso rullino si trova lo stesso tipo di difetto. Probabilmente è un errore di trascinamento della pellicola o è il punto in cui la pellicola era agganciata. Ricordiamoci, qui siamo in epoca pre-digitale, quindi c'è un rullino di sostanze chimiche su un supporto, quasi che oggi bisogna spiegare alle giovani generazioni. Quindi il mito giornalistico dell'avvistamento ufologico nasce e si alimenta sulla base di una fotografia che è presentata in maniera distorta. L'aspetto più interessante però di questa storia è che la NASA non dice all'astronauta, zitto, non dire nulla. Lo lascia libero di parlare. E questo è un dettaglio molto importante per quelli che argomentano che la NASA nasconde cose, vuole tenersi le cose. Anzi, penso che la NASA sarebbe entusiasta di trovare vita su Marte. Avremmo una giustificazione molto interessante per andare, non so, a esportare democrazia anche in questo paese, anche in quel pianeta. Non è l'unico astronauta del suo genere. Gli astronauti della, come dire, della serie classica sono stati molto prodighi dal punto di vista dell'ufologia, dell'avvistamenti di oggetti misteriosi. Tra l'altro, se vi interessa, queste sono le coordinate tecniche delle fotografie. Questi sono i numeri di serie delle fotografie che vi sto mostrando. C'è un altro personaggio, Gordon Cooper, molto eccentrico. Anche lui, stiamo parlando a questo punto delle missioni Gemini, anche qui. E lui è un pilota dell'aviazione degli Stati Uniti, un ingegnere aeronautico. Ha fatto veramente di tutto nella sua carriera. Vola con la Gemini 5, insieme a Pete Conrad, passano otto giorni nello spazio e gli vengono attribuite delle affermazioni abbastanza interessanti. Eccolo lui. Nella sua autobiografia racconta le sue esperienze di volo spaziale e racconta cose come questa. Secondo lui, veicoli ed equipaggi extraterrestri visitano questo pianeta e sono ovviamente un po' più tecnicamente progrediti di noi. Ovviamente perché loro ce la fanno a venire a trovare noi e noi non riusciamo ad andare a trovare loro. Quindi lui scrive questa lettera alle Nazioni Unite raccontando questa sua opinione. Dice anche che crede che i visitatori extraterrestri siano stati qui e vengono qui con regolarità. Lo fa in televisione al Mary Griffin Show, creando un discreto clamore. Però, c'è sempre un parò in queste cose, sono opinioni. Lui, nella sua esperienza, non ha mai avuto contatti con visitatori extraterrestri, non ha mai fatto avvistamenti strani. Eppure, se andiamo a cercare che cosa gli viene attribuito, saltano fuori come dichiarazioni notevolissime come questa. Essere intelligenti di altri pianeti visitano con regolarità il nostro mondo per tentare di mettersi in contatto con noi, eccetera, eccetera. La NASA e il governo americano lo sanno e hanno le prove, temi classici del cospirazionismo ufologico, eppure tacciano. Questo viene addirittura incluso nel materiale promozionale di un film famosissimo, Incontri dei Ravvicinati del Terzo Tipo, ma Cooper non ha mai fatto questa dichiarazione. Se la sono inventata quelli dell'ufficio stampa di promozione del film, tanto è vero che a un certo punto Cooper è andato a far causa, alla Columbia, perché diceva io non ho mai detto questa cosa, la dichiarazione è completamente inventata. E questo, cominciate a vedere che si sta formando un tema ricorrente, anche Patrizia Caraveo l'ha citato molto bene, i media hanno un ruolo fondamentale nella diffusione dell'idea che ci siano contatti frequenti con forme di vita tecnologiche extraterrestri, molto più progredite di noi. Quindi Cooper credeva che ci fossero delle visite, ma di prove fondamentalmente non ne aveva. E oltretutto molto spesso gli venivano attribuite delle dichiarazioni che non aveva assolutamente pronunciato. Non è l'unica che gli viene attribuita. Cooper è un po', come dire, l'oggetto del desiderio di tanti giornalisti, perché gli vengono attribuite dichiarazioni di tantissimi generi. Per fortuna abbiamo dei bravi storici, come James Oberg, che si sono dedicati a verificare una per una queste dichiarazioni. Qui, riassunto generale di quello che gli viene attribuito, è dichiarazione reale corrispondente. Allora, gli viene attribuito il fatto che ci sarebbero flotte di UFO che sarebbero passate sopra la sua base militare in Germania. Accidenti, detta così, sembra una cosa straordinaria. Ma quando si va a chiedere ai colleghi, salta fuori che nessuno se ne ricorda, nessuno dei suoi colleghi e altri se ne ricordano. Ah sì, però aveva detto che la stessa cosa era successa negli Stati Uniti. Oppure sarebbero addirittura state fatte delle riprese fotografiche di un atterraggio di un UFO. Mi è arrivato davanti, si è parcheggiato davanti a me questo oggetto con tre zampette. Ma non è lui a vederle, sono dei suoi colleghi che hanno una speciale cinepresa di alta precisione. Lui è incaricato di prendere questa pellicola, svilupparla, gli viene dato l'ordine di non diffonderla, di non farne copie, ma non gli viene detto di non guardarla. Quindi lui si guarda la strisciata della pellicola, dice di aver visto cose di un veicolo straordinario. Però tutta questa cosa salta fuori che le sue dichiarazioni effettive, gonfiate dalla stampa, ma le sue dichiarazioni effettive sono queste. Non vedi nulla di persone, sono tutte testimonianze di seconda mano, io non c'ero e quindi non dite che l'ho visto. Se ci sono informazioni sugli UFO, e anche questo è un aspetto molto importante quando si parla di ufologia, guardiamo esattamente in che ruolo si trovavano le persone che vengono citate come testimoni. Se ci sono informazioni sugli UFO che vengono nascoste non è l'aviezione degli Stati Uniti a farlo, perché io avevo un rango sufficiente per saperlo. E quindi chiaramente anche qui non funziona. E poi Cooper appunto è citatissimo, avrebbe avuto addirittura un incontro durante la sua missione in solitario, la Mercuri 9, un oggetto verde confermato dai radar di Terra. Detto così anche qui sembra straordinario, un oggetto verde confermato dai radar. Abbiamo la prova di una visita extraterrestre, poi verde ci sta bene, quei raggi verdi dei marziani nel film La Guerra dei Mondi, anche cromaticamente oggi funziona. In realtà cosa stava facendo? Descriveva l'aurora, che ovviamente i rilevamenti a Terra confermavano, anche grazie ai radar, non c'è stato nessun avvistamento. Lui dice, oh non ho mai detto niente del genere, ho i nastri di bordo di quello che ho detto, riascoltateli. Però molta gente preferisce non farlo. Altro esempio, avvistamento radar di un UFO inseguitore durante la missione Gemini 5. No, l'ha detto, ancora prima che atterrasse la NASA ha spiegato, no guardate è un eco radar normale, non abbiamo visto niente di particolare. Gordon Cooper non sta dicendo che era tallonato da un UFO, addirittura lo stava inseguendo, no, nulla di tutto questo. Quindi molto spesso bisogna fare un grossissimo lavoro di scremature, di ritorno alle fonti per trovare esattamente che cosa è stato detto. E questo è il nostro preferito, Ed Mitchell. Ed Mitchell era un personaggio assolutamente straordinario, forse il personaggio più eccentrico che la NASA abbia mai fatto volare nello spazio profondo. Ed Mitchell credeva nella parapsicologia, ha fatto esperimenti di parapsicologia durante la sua missione nello spazio, con risultati assolutamente non convincenti, però ha proseguito tutta la sua vita con delle convinzioni estremamente profonde. La sua missione a Apollo 14 è una delle più belle dal punto di vista scientifico, perché ha dimostrato il limite straordinario che può raggiungere l'esplorazione umana senza, questa era l'ultima esplorazione senza un veicolo elettrico che portasse gli astronauti. E Mitchell è famoso per molte dichiarazioni. E anche qui ne cito qualcuna. Sicuro al 90% che molte delle migliaia di UFO avvistate di anni 40 appartengono a visitatori da altri pianeti. Opinione però, è una sua certezza personale. Ha incontrato funzionali di tre paesi che dicono di aver avuto incontri personali con extraterrestri. Anche qui c'è il tema del maletengono segrete. Poi l'ingegneria sonica ha tutta da vedere, ma lasciamo stare. C'è una cricca all'interno del governo degli Stati Uniti che sta studiando corpi alieni recuperati. Queste sono dichiarazioni effettivamente fatte da Ed Mitchell. L'incidente di Roswell fu reale, coinvolse un veicolo spaziale, i governi ci nascondono la verità. Io ho avuto il privilegio di essere informato del fatto che siamo stati visitati su questo pianeta e che il fenomeno UFO è reale. Il tema ricorrente di queste sue dichiarazioni è, io di persona non ho visto nulla, ma mi è stato detto che. E questo è molto importante da tenere presente. Tant'è vero che a un certo punto ho avuto un'occasione particolare, visto che i media continuavano a riprendere le sue dichiarazioni e le riportavano con grande clamore. L'astronauta dell'Apollo 14, vedi, ti presento come astronauta, sei una persona autorevole su questo argomento, sei stato nello spazio, ci capisci. Grazie agli alieni abbiamo evitato la guerra nucleare. Se qualcuno ha il numero di telefono degli alieni ci potrebbe fare comodo ancora adesso. E qui ovviamente Daily Mirror, altra fonte scientifica ineccepibile. Gli alieni, che sono sempre fatti così, amano la pace, pace ragazzi, vogliono salvare l'America, solo quella, dalla guerra nucleare, Bangladesh lasciamolo perdere, dicono che questo viene detto dall'astronauta lunare. Quindi, come vedete, l'astronauta lunare è una figura autorevole. Se dice che ci sono gli UFO, ci dobbiamo credere. Al che appunto mi è capitata questa occasione particolare. Alcuni anni fa Ed Mitchell, durante uno suo ciclo di conferenze, è stato in Svizzera a Tramelan e, eccomi qua, genuflesso davanti a lui, di nuovo come oggi, non c'era la sedia e quindi mi sono avvicinato a lui e gli ho fatto una sola domanda. Quello era il tempo concesso. Senta, ma lei di persona ha mai visto un veicolo extraterrestre? Ha mai visto qualcosa che le facesse sospettare tecnologie aliene? Fa io di persona no. Tutto quello che so, e l'ho anche ripetuto poi nei suoi libri, tutto quello che so mi è stato detto. Io di persona non ho mai visto nulla. Sulla luna non ho visto alieni. Nulla. Era anche abbastanza deluso da questo punto di vista, perché speravo di poterne incontrare, di avere delle prove di osservazione diretta. Però, quando si parla di ufologia, dobbiamo essere sempre molto attenti al fenomeno della testimonianza riportata. Se io non ho un'osservazione diretta, se non ho delle prove concrete, se non sono stato in prima persona a osservare il fenomeno, mi devo fidare della fonte che me lo riferisce. Se quella fonte non è attendibile, rischio di diffondere una notizia falsa. E non è l'unico. Ed Mitchell purtroppo non è più con noi, come tanti degli astronauti che ho citato, ed è rimasto con questa speranza di conoscere, di convinzione che ci siano forme di vita intelligenti, ma di contatti personali non ne ha mai avuti, nonostante quello che dice la stampa. Abbiamo però con noi ancora adesso, anche se molto avanti con gli anni, un astronauta, Buzz Aldrin, che ne ha dette veramente di tutti i colori. Secondo uomo, diciamo, uno dei primi due per essere pignoli a camminare sulla Luna, visto che 20 minuti fra il primo e il secondo non stiamo lì a dibatterne troppo. E lui racconta, e viene citato spesso nei documentari ufologici, c'è una produzione di documentari ufologici su YouTube assolutamente straordinaria, che molto spesso citano le sue parole. Qui non è un virgolettato, questa è proprio la registrazione di Aldrin, che fa una dichiarazione molto dettagliata. Lui racconta che durante il viaggio verso la Luna, a un certo punto, tutto l'equipaggio ha visto un oggetto metallico che li inseguiva. e vista la situazione hanno chiamato con discrezione contro l'omissione a Terra e hanno chiesto ma questo componente del nostro veicolo che abbiamo abbandonato, dove sta? No, ma sta a 11.000 km di distanza, non ti preoccupare, non è un problema. Ok, perché fa niente? Non ti preoccupare. Da Terra volevano capire come mai avesse fatto questa domanda, ma siccome le comunicazioni radio degli astronauti erano in chiaro, potevano essere ricevute da tutto il mondo, l'equipaggio preferì non sollevare la questione, perché stai andando verso la Luna, se qualcuno si mette in testa che tu hai visto un veicolo extraterrestre, magari qualche politico alza la manina e dice, per l'amor del cielo, facciamoli tornare indietro prima di causare un incidente diplomatico, le mille paranoie che possono succedere in politica, in politica e soprattutto quando sei in viaggio verso la Luna su un veicolo estremamente delicato. Salta fuori che questa storia dell'incontro con l'oggetto metallico che fra l'altro sembra roteare su se stesso, cioè la classica immagine della mitologia ufologica che li insegue, in realtà era già stata smontata direttamente da Aldrin nella stessa intervista che viene spesso citata dagli ufologi. In pratica la spiegazione tecnica è questa, il veicolo spaziale è composto da una parte conica, quella che vedete davanti, che ospita gli astronauti, quello si chiama modulo di comando, dietro c'è il modulo principale propulsivo che è il modulo di servizio, dietro c'è il modulo lunare che ha la scialuppa per scendere sulla Luna, quel modulo lunare era chiuso all'interno di quattro petali metallici. Quei petali metallici venivano aperti e sganciati durante il viaggio verso la Luna e si estraeva il modulo lunare e poi i petali per un po' di tempo seguivano il veicolo per inerzia. La meccanica orbitale è quella che è, se non intervieni con una spinta propulsiva tutti i pezzi continuano a proseguire. Risultato, l'oggetto che avevano visto era semplicemente uno dei pannelli, ma era metallico, era ruoteante e Aldrin spiega questa cosa nell'intervista, i media tagliano la sua risposta. Quindi non siamo più nel ho capito male, ho riferito così perché è una testimonianza di terza mano, qui c'è un taglio intenzionale. E purtroppo questa fra l'altro è una cosa che se vi interessa nei technical group debriefing, cioè nei documenti pubblici della NASA è stata spiegata immediatamente. Appena ritorno a terra hanno spiegato, tra le tante cose che abbiamo visto, guardate che c'era il pannello dell'S4B, quello che era qui deve modulo lunare, si vedeva da lontanissimo. L'abbiamo visto tutti molto bene, abbiamo preferito non fare discussione pubblica durante la missione per non creare angoscia e scalpore. Quindi tante delle affermazioni che l'ufologia attribuisce agli astronauti, presentandoli come figure autorevoli, sono in realtà affermazioni mai fatte o distorte, se non addirittura tagliate. Però questi sono astronauti, come dire, storici. Possiamo prendere un caso molto più recente, molto più vicino a noi, per vedere anche come la comunicazione, come i media affrontano il fenomeno ufologia e astronautica. Mi riferisco alla prima missione di Samantha Cristoforetti. Siamo nel 2014 e Samantha Cristoforetti è a bordo di un veicolo russo, sta avvicinandosi la stazione spaziale internazionale che è la destinazione del suo viaggio e se l'audio ce lo consente. Sentiamo la sua reazione. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E lei fa questa esclamazione e il suo comandante, Anton Shkaplerov, le dice, tico, tico, zitta, 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 calma. Gli ufologi ci sono andati a nozze su questa storia. Che cosa avrà mai visto Samantha Cristoforetti? Quando si stava avvicinando la stazione ha avuto questa esclamazione e il suo comandante le dice, zitta. È una storia perfetta da questo punto di vista. Allora ho fatto una cosa molto semplice, sono andato a rivedermi le registrazioni, di cui avete visto adesso un pezzetto, sono andato anche a sentire, ho chiesto a Samantha, ci conosciamo da tempi non sospetti, prima che facesse l'astronauta, per la nostra passione comune per Star Trek, hai detto, senti, ma perché hai fatto quell'esclamazione così forte? Guarda, francamente finché non mi hai fatto riascoltare il nastro manco mi ricordavo di averla fatto. Ma la mia risposta è stata semplice, io per la prima volta ho visto con i miei occhi lo splendore della Stazione Spaziale Internazionale. Ci siamo avvicinati al tramonto nello spazio, in quella posizione orbitale, in quel momento la Soyuz era in penombra, la Stazione Spaziale era illuminata dal Sole, più o meno come si vede in questa bellissima fotografia. Quando l'ho vista così grande, così nitida per la prima volta, non ho saputo contenere un'esclamazione di gioia. Hai fatto anni di carriera, anni di fatica, di addestramento, di preparazione. Questo è il momento, uno dei momenti culminanti di tutta una professione di una carriera. Quindi niente, tutto male, non ho visto omini verdi, non c'era qualcuno che bussava al finestrino, fa scusi qua ad otto non può parcheggiare. Come hanno reagito i media? Così, Corriere della Sera, mistero bufo. Ma che cosa ha visto Samantha? Niente! Ma se tu vai sul giornale, se sei un giornalista e ti chiedono scrivi un articolo su che cosa ha visto Samantha, niente, non ti pagano. L'articolo non esce. A me suona, questa è fra l'altro una dichiarazione molto pesante, il Flavio Vanetti, sulle pagine di mistero bufo, che il Corriere della Sera dichiara essere un blog, quindi non è parte del giornale, però la testata è quella, cavigliamo finché vogliamo. Flavio Vanetti dice, a me suona tanto di bugia confezionata ad hoc. Quindi la stampa arriva a insinuare che un'astronauta italiana sia una bugiarda e lo scrive e lo lascia scrivere sulle pagine del Corriere della Sera. Non è una situazione piacevole. Quindi quando si parla di ufologia dobbiamo stare molto attenti perché il ruolo dei media è molto spesso fuorviante. Dobbiamo dargli ampia tara. Faccio un altro esempio più recente, una trasmissione televisiva su Rete4, ha pensato qualche tempo fa di presentare questo filmato inedito di una visita alla superficie lunare da parte degli astronauti delle missioni Apollo e astronauta 1 dice ma cosa è quello? Astronauta 2 dice abbiamo una spiegazione per questa cosa, punto interrogativo. Da Terra gli dicono non l'abbiamo, non vi preoccupate, continuate il vostro programma, zitti mi raccomando. Da dove viene questa conversazione? Avendo lavorato molto a lungo con le registrazioni audio delle missioni io conosco le voci degli astronauti. Nessuna di quelle voci somigliava alla loro. Che missione poteva essere? Cerca che ti cerca che ti cerca, vai a prendere il testo originale, finalmente salta fuori la fonte di questa misteriosa dichiarazione. Addirittura vedete che mi viene attribuita la dichiarazione ma è una forma di vita quella? Perché ovviamente gli astronauti la prima cosa che fanno vedono una cosa e dicono ma sarà una forma di vita? Non lo so. Dialoghi che non hanno nessuna plausibilità neanche vagamente tecnica, non si parla così quando si è astronauti. E la fonte di questa conversazione, di questa registrazione, un cosiddetto mockumentary, cioè uno di quei documentari finti, fatti nel 1977 in questo caso si chiamava Alternative 3, fatto da una rete televisiva britannica, come fiction. È una versione moderna della guerra dei mondi, quella di Orson Wells, che oggi viene spezzettata, pubblicata su YouTube tagliando l'introduzione e la chiusura per cui la gente la prende per vera. Era un problema che ai tempi delle trasmissioni televisive non si poneva, la trasmettiamo intera all'inizio e alla fine, se la guardi nei titoli di coda o all'inizio ci è spiegato che è una fiction. Eppure invece in questo caso e soprattutto nel mondo mediatico di oggi non c'è più questa attenzione. E questo è un tema appunto ricorrente. Abbiamo citato prima il caso di Marte e abbiamo visto Ed Mitchell che raccontava storie su visita extraterrestre e diceva che il caso di Roswell è reale, sono convinto, visite marziane e via di cena. Andiamo a vedere, andiamo all'inizio, bisogna sempre andare alle origini di queste storie. Molti ricercatori l'hanno già fatto, è possibile andare oggi a cercare negli archivi storici della documentazione e salta fuori che queste sono le fotografie dell'oggetto volante hanno identificato di altissima tecnologia che sarebbe stato recuperato a Roswell nel New Mexico nel 1947 e come vedete o gli astronauti extraterrestri viaggiano su veicoli fatti di stagnola e legno, quindi hanno una tecnologia più avanti della nostra dal punto di vista ecologico, oppure questo è semplicemente un riflettore radar. Esisteva un progetto all'epoca classificato, segreto, Project Mogul, che era un sistema di ascolto in altissima quota dei test nucleari sovietici. Praticamente piazzi un microfono ad altissima quota, questo microfono sente le onde sonore che arrivano dalle detonazioni nucleari e quindi è possibile monitorare a distanza quello che succede in atmosfera. Molto interessante, questa cosa è fra l'altro dichiarata sin da subito anche nei primi cablo, salta fuori che l'aviazione ha detto che si tratta di un oggetto che alcuni ritengono sia un disco volante, è stato recuperato vicino a Roswell, il disco è esagonale, che dimostra molto bene come l'aviazione militare degli Stati Uniti conosce la geometria, avete mai visto un disco esagonale, eppure così. Quindi era già documentato ed era sospeso da un cavo a un pallone. Questo è già nei cablo originali. Tutta questa storia nel frattempo si è ingigantita, ovviamente gli abitanti di Roswell ne hanno fatto un'industria e il gioco è fatto. Di cose nel cielo ce ne sono tantissime, straordinarie. Molte delle osservazioni fatte da un altro gruppo di esperti del settore, i piloti, ai quali si dà molto spesso credito di totale attendibilità, è quella di veicoli straordinari. Questo è un U2, è un ricognitore straordinario per l'epoca, volava talmente in alto, ed era un veicolo classificato, segreto, che i piloti spesso riferivano, i piloti civili riferivano un bagliore fiammeggiante al di sopra di loro. Era il riflesso della fusoliera di questi aerei che ufficialmente non erano dichiarati. Oggi lo sappiamo perché i tracciati dei voli degli U2 sono stati nel frattempo resi pubblici e quindi sappiamo come andavano le cose. Molti degli avvistamenti storici raccontati nell'ufologia hanno spiegazioni come queste. Questo non è un veicolo extraterrestre, questo è l'SR71, che è un veicolo nato negli anni 50. Non dimentichiamoci questa cosa, ancora oggi detiene il record di velocità, tre volte la velocità del suono, un oggetto straordinario. E questi sono gli oggetti misteriosi che la NASA faceva volare per acquisire dati. Questo era uno dei primi droni ipersonici. Qui siamo negli anni 60-70. Immaginate un pilota che dice ho visto un veicolo triangolare che mi passava sopra. Sta definendo un disco volante o sta definendo un aereo con una forma di questo genere. È possibile. Soprattutto se lo vedi di profilo mentre ti sta lasciando tranquillamente nella sua scia, perché vola tre volte più veloce di te, questo può sembrare tranquillamente un oggetto extraterrestre. E quindi dobbiamo essere estremamente cauti prima di dire che quello che vediamo e non sappiamo che cosa sia deve essere per forza un veicolo extraterrestre. Questi sono droni degli anni 80. Questo è un drone della Sikorsky, che figurerebbe benissimo in un film di fantascienza. Tanto vero che è stato utilizzato anche all'interno di un videogioco di guerra. E di oggetti di questo genere ce ne sono tantissimi. Questi sono oggetti classici. Questo è dello stesso periodo in cui Gordon Cooper diceva di aver visto che i suoi colleghi avevano filmato un oggetto con tre zampette che atterrava su una base militare. Questo è l'Avrocar, uno dei veicoli sperimentali, anche questo all'epoca top secret, che doveva diventare un ricognitore supersonico o addirittura un bombardiere supersonico. Flop totale, ma oggi è nei musei. Lo possiamo esaminare, possiamo vedere. C'era molto interesse all'epoca per i veicoli a forma lenticolare, perché dal punto di vista aerodinamico erano molto interessanti. Oggi abbiamo altri oggetti misteriosi nel cielo. Questo è un bombardiere strategico. Un Northrop B2, visto di taglio, potrebbe tranquillamente ingannare un osservatore non esperto. Questo che cos'è? Questi sono i droni. Questi sono i veicoli moderni. Questo è un X-47B, anche questo è un Northrop Grumman, che ha ormai sviluppato una tecnologia per le ali volanti, quindi senza pinne verticali. molto sofisticata e questo è lo stesso oggetto visto in un contesto diverso. Quindi con il carrello estratto, con la sua forma molto più riconoscibile vista di piatto, ma visto di taglio sembra il classico veicolo ufologico. Abbiamo degli alleati in questa inchiesta. Chi osserva il cielo ha oggi degli strumenti tecnologici straordinari. Abbiamo dei sistemi di rilevamento automatico. Se ci fossero delle visite extraterrestri di veicoli, questi veicoli sarebbero visibili e sarebbero registrati, sarebbero tracciati, così come gli astrofili fanno rilevamento dei bolidi, come questa magnifica fotografia documenta. Se ci fossero veicoli extraterrestri che passano, non sarebbe certo un metronote di Genova accorgersene ad essere rapito da loro, ma avremmo una documentazione molto chiara della sua traiettoria, del suo passaggio e via dicendo. E questo ci porta all'ultimo argomento. Oggi si parla di nuovo molto di avvistamenti, di addirittura rapporti militari. C'è uscito recentemente una indagine dell'evestione degli Stati Uniti che cerca di mettere chiarezza su fenomeni come questi UFO triangolari. Anche qui, grandissimo clamore sulla stampa. Qual è la realtà? La realtà è che si va a vedere la fonte di questa ripresa, che è un'osservazione di amatoriale di un marinaio a bordo di una nave della Marina degli Stati Uniti, in una località ben conosciuta. Salta fuori che questo è un effetto fotografico. L'effetto fotografico è dovuto al sensore, al sistema per la visione notturna, che ha un iride triangolare. Se provate a fare una fotografia mettendo, come è stato fatto, il telefonino davanti a questo sensore, se l'oggetto è fuori fuoco ottenete questa forma triangolare. Ciò che si vede nella fotografia non è la realtà, è l'effetto del strumento di acquisizione. E questo i documenti tecnici lo ripetono tante volte. Tantissimi dei filmati di cui si parla oggi, video che mostrano UFO in volo, sono autentici? Sì, attenzione, questa è una dichiarazione molto ambigua, va capita bene. I video sono autentici, nel senso che non sono di provenienza strana, sono effettivamente stati registrati da addetti della Marina Militare o dai piloti dell'aviazione militare. Vuol dire che questi sono video ufologici? No, vuol dire semplicemente che questi sono i video originali ripresi dalle telecamere, dagli strumenti di bordo. Che cosa mostrano questi oggetti? Mostrano davvero oggetti misteriosi queste riprese? In realtà, se andiamo a osservare che cosa stanno facendo, sono immagini all'infrarosso, quindi stanno registrando il calore, non la luce emessa da questi oggetti. Il sensore è montato su una piattaforma che ruota indipendentemente dall'aereo e quindi le rotazioni che vedete sono in realtà le correzioni di assetto dell'obiettivo. Non è l'oggetto che si muove, non è l'oggetto che gira, ma è l'obiettivo che viene girato di angolazione. Il risultato è che i piloti non sanno esattamente che cosa stanno vedendo, non è il loro compito analizzare questi oggetti in dettaglio, ma la spiegazione più probabile di questi veicoli, di queste osservazioni, è che si tratti effettivamente di un veicolo. Quella non è la forma del veicolo, è semplicemente la saturazione del sensore d'immagine che crea questa apparente forma. Infatti, se andiamo a vedere un sensore analogo che riprende un aereo al decollo, vedete che il Concordo non aveva queste due grandi sfere nere dietro, era semplicemente il bagliore caldissimo della sua temperatura dei post bruciatori. Risultato? Quello che abbiamo visto in questi filmati non è assolutamente l'immagine dell'area in realtà. E io ho una domanda conclusiva. Se davvero avessimo gli extraterrestri che vogliono passare inosservati, perché non si travestono da aerei di linea? Nessuno se ne accorgerebbe. Quindi, il tema fondamentale è l'ufologia. Pone una domanda bellissima, fondamentale. Siamo soli nell'universo? Non lo sappiamo. L'ufologia a volte pretende di avere una risposta a questa domanda. La scienza invece dice calma un attimo. E soprattutto in tutta questa storia a me preoccupa il ruolo del giornalismo di oggi. Come giornalista sono preoccupato. Queste sono storie belle ma non reali, che vengono invece presentate come reali. A volte si dice se Vicente, ma non so, c'è questo che dice che è vero, quello che dice quell'altro. C'è l'ufologo che dice che le piramidi le hanno costruite, gli alieni ci sono gli archeologi che dicono no, veramente no. Mettiamoli alla pari. Ora, il compito del giornalista non è quello di dire c'è un signore che dice che piove, c'è un altro signore che dice che c'è asciutto oggi. Il compito del giornalista è aprire la finestra e guardare che cosa è la verità, cosa sta veramente succedendo. Questo purtroppo è un compito che i giornalisti molto spesso non rispettano. Grazie. Grazie.